Una nota società di commercio all'ingrosso di elettrodomestici e prodotti high-tech operante nel litorale romano avrebbe occultato al fisco oltre 40 milioni di euro di ricavi relativi alle vendite, omettendo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi nonché evaso l'IVA per circa 3 milioni e 400 mila euro. È quanto appurato dai finanziari del Comando Provinciale di Roma al termine di una complessa verifica fiscale durante la quale erano anche emersi acquisti di consistenti partite di merce da altri paesi dell'Unione Europea. Proprio partendo da questi ultimi, le fiamme gialle del secondo gruppo di Ostia hanno dovuto ricostruire il volume d'affari dell'impresa, mancando qualsiasi scrittura contabile e documentazione amministrativa comprovante le operazioni effettuate. I due amministratori della società sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica di Roma per i reati di omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi dell'IVA e dell'IRAP, nonché di occultamento e distruzione delle scritture contabili. Gli elementi raccolti hanno permesso al Pubblico Ministero di richiedere al giudice delle indagini preliminari di Roma l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo di beni immobili nella disponibilità dei responsabili, volta all'applicazione della confisca per equivalente in relazione alle imposte vase, alle pene pecuniarie e gli eventuali interessi maturati.